Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche di QTSS Pa voleva che io girassi il mondo. Un giorno. C'è uno Yeti sul mio tetto. Ehi, piccolo. Oh, piccola. Sì, decisamente ho piccolo. Non so da dove salti fuori. Capizzi, Rosso! È scappato. Rivolgo il mio Yeti! È casa tua? Non ci credo. Penso io a riportarti a casa, dalla tua famiglia. Avresti ancora piccolo. Non prenderti a pugno. Questo sei tu e i tuoi genitori. Ah, gli occhi di tua madre. C'è qualcuno che ti sta cercando. L'ho spento! Sai fare magia? È incredibile! È impossibile! Vorrei che mio padre fosse qui. Sì, mamma. Pecchino è bella. Oh, Peng sta... Peng sta bene. Ti raccontano! Era il violino di tuo padre. Mia padre suonava per me ogni sera. Come per dirmi che... Per duro che si faccia il viaggio... Non devi mollare. È bellissimo! Sei stata tu e... Sono stata Heath. Quando Heath si mette in testa una cosa, niente è impossibile. È vero! Mirtilli? Mia! Ho trovato mirtilli in posti dove i mirtilli non dovrebbero essere. Ho trovato! Grazie a tutti.